L'obiettivo era quello di scendere sotto 25 e magari di limarlo un po' il mio record. Lì per lì mi è un po' dispiaciuto questo cavolo, però magari anche riabituandosi a gareggiare, provare certe cose magari mi permetterà di migliorarlo più avanti. Ecco, dopo l'intervento, vabbè, quello sono passati due anni e quello è stato abbastanza un inferno chiaramente, perché operarsi al ginocchio poi vuol dire dopo un lungo stop anche tornare a camminare, insomma una riabilitazione abbastanza dura. E mano a mano poi gareggiare anche, anche tornare a sentirsi sicuri magari, no? Nell'ambiente quello in cui c'è il fighting, il battagliare, tornare a fare quello, ancora mi sento che posso migliorare da quel punto di vista. Poi dopo il lockdown c'è stata voglia perché questi tre mesi alla fine li abbiamo interpretati come un anticipo, un vantaggio per la stagione prossima, quindi partiamo con un pochino di lavoro in più rispetto al solito settembre.